Mi ha assistito, ha investito in obbligazioni subordinate, nel 2013 tutti risparmi di una vita e quindi si è trovato a dover ricorrere a prestiti da parte di familiari per poter andare avanti. Ha 80 anni e è un aretino e con la moglie disabile, è difeso dall'avvocato Lorenza Calvanese ed è il primo aretino a costituirsi parte civile nel processo per truffa dopo il crack di Banca Etruria. Sì, è stata un'udienza interlocutoria tutto sommato. La parte civile ha richiesto un rinvio perché la procura ha prodotto proprio ieri altre documentazioni inerente a altri procedimenti penali. Per me si poteva fare anche oggi il processo, però è stato rinviato ad ottobre, il 19 ottobre. Si aspettava questa costituzione di parte civile? Ma sì, vedendo il fascicolo sì, però mi aspettavo magari che si costituissero anche in altri procedimenti, cosa che oggi non è stata. La prima udienza è stata, come si dice in gergo di smistamento, dei 10 casi in calendario, uno è stato rinviato al 22 ottobre, gli altri tutti al 19. In molti casi i difensori hanno chiesto i termini di difesa per poter esaminare una integrazione di indagine che il PM Michela Rossi ha depositato il giorno precedente. Ma in generale ci sono state tutta una serie di rinvii anche perché la procura ieri ha depositato alcuni documenti che noi ora valuteremo intanto rispetto all'ammissibilità e poi alla congruenza sui processi attuali. Si torna in aula dunque tra meno di un mese quando partiranno anche i procedimenti a carico degli altri dirigenti di filiale e impiegati. In tutto ci sono oltre 450 esposti e gli indagati sono 60. Certamente sarà impegnativo, noi siamo sempre assolutamente non solo ottimisti ma siamo convinti che verrà fuori la verità, che dimostrerà che i dipendenti non hanno alcun tipo di responsabilità in questa vicenda.